Giusy, questo è un video. Dove guardi? Dove guardi? Dove guardi, Giusy? Così? Questo è un video. E cosa vuoi fare il video? La Giusy Marti! La Giusy Marti! E' capucetto rosso! E' capucetto rosso! E' capucetto rosso! E' capucetto rosso! E' la bocca così! Ma devi ripidare! Invitiamo tutti i genitori di Livorno-Perrari. Venite qui! Dove sei? Che aspettiamo? Sei qua! Dove sei? Apre la bocca e giù! Su me e mio vi dico che ti mancavi veramente tanto! Sto tornando! Sto tornando! Non ti ricordi? Hai il rossetto sul dente. Fai i, fai ci. Sì, anche senza un dente. Giusy, questo è un video. Ok. Dove guardi? Dove guardi? Dove guardi, Giusy? Così? Come vedi? Vede troppo belle! Vede! 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 Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!